la programmazione di Cosmo Radio Taurasi la radio web senza censura e senza scopo di lucro una radio autofinanziata che allietterà le vostre serate con programmi di politica musica sport e tanto altro non perdetevi le nostre dirette Cosmo Radio la vostra voce fuori dal coro mettetevi comodi lo spettacolo sta per cominciare il più grande spettacolo dopo il Big Bang il più grande spettacolo dopo il Big Bang il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi ogni mercoledì su Cosmo Radio Taurasi l'Irpinia non è la terra degli Hobbit conduce Nicola di Iorio E' tempo che era verde sta montagna fuoco manava senza mette legna mo che c'è capitata sta siccagna non cresce manca nu file e ramegna di più grande spettacolo dopo il Big Bang il Buona domenica, passate a casa ad aspettare, anche il telefono non squilla più, il tuo ragazzo ha preso il gol. Buona domenica, tanto tua madre lo capisce, continuo a dirti ma non esci mai, perché non provi a divertirti. Buona domenica, quando misuri la tua stanza, in estraletto la tua radio che, continuo a dirti che è domenica. Ciao, ciao domenica, passate a prendere i sui libri, tanto lo sai che non ti credo, e poi è domani che ti frega. Ciao, ciao, buona domenica, davanti alla televisione, con quegli idioti che ti guardano e che continuano a giocare. Ciao, ciao domenica, che tua sorella parla, parla, con quello sguardo da imbecille poi, apre la porta alla domenica. Ciao, ciao domenica, passate a scrivere da solo, venti minuti su una pagina, e proprio non ti puoi soffrire. Ciao, ciao, ciao domenica, passate ad ascoltare dischi, meno ti cerchi a chi ci sta a pensare, e questo tu lo chiami amore. Ciao, ciao domenica, madonna non finisce mai, sono le sei, c'è ancora il sole fuori, nessuno a cui telefonare. Ciao, ciao domenica, e tuo ragazzo non ti chiama, tristezza nera nello stomaco, e in testa voglia di morire, ma non morire di domenica, in questo giorno da bucare, tutto va bene, guarda pure il sole, aspetta ancora una domenica. ah, ah 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a 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 tutti. . Grazie a tutti. . Grazie a tutti. . . . . . . . ... . ... 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 ...... 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 monito è sicuramente emblematico di quello che rappresenta questo fenomeno sociale ci fermiamo qualche altro minuto con sia De Gretes e ci ritroviamo qui con me e Nunzia Spinelli Sì Grazie a tutti 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 E' molto E' tutti Grazie a 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 tutti Cosimo Grazie a tutti 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 Domani Ci Grazie a tutti 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 Cosimo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti